Il fumo fa male e lo sanno tutti, ma forse non sai ancora che l'accoppiata con il reflusso è veramente micidiale. Allora ecco due motivazioni per aiutarti a fare la scelta giusta. Il fumo riduce la funzionalità dello sfintere esofageo inferiore, cioè il passaggio tra l'esofago e lo stomaco, e quindi aumenta il reflusso gastroesofageo. In più il fumo riduce la funzionalità della saliva, che sarebbe quella di proteggere il tuo esofago, e quindi lo stai esponendo a un maggiore contatto con l'acido. La seconda è che il fumo aumenta il numero di eventi di reflusso che non sono attribuibili allo sfintere di cui parlavamo prima, ma che sono attribuibili più a una funzione respiratoria profonda e di tosse che appunto nei fumatori è più presente. Insomma il fumo di sigaretta contribuisce significativamente al peggioramento della tua gerda e aumenta quindi la frequenza dell'esposizione acida dell'esofago e interferisce con i meccanismi che sarebbero naturali di difesa contro il reflusso. Smetti di fumare, è anche fuori moda.